Vasile Mogos, sei a disposizione dei giornalisti, hanno inviato alcune domande, te le sottoponiamo. La prima, dopo la vittoria sul Pisa, ci si aspettava un crotone diverso. Cosa non ha funzionato ad Alessandria? Ha funzionato l'atteggiamento che abbiamo avuto contro il Pisa. Siamo andati là con un atteggiamento, non dico sbagliato, però diverso da quello che abbiamo visto tutti quanti in casa. Sei uno degli uomini di maggiore esperienza della rossa, come si trova continuità in una situazione come questa? Ho avuto la sfortuna, barra la fortuna, di passare un momento del genere. L'unico modo è stare prima di tutto uniti, perché è un attimo che ci sgrottogliamo, ma siamo una squadra, siamo un gruppo, anche se giovane, ma che tutti quanti ci tiene a fare bene. E poi la cosa più importante è il lavoro in campo. Arriva il Benevento, reduce dalla vittoria sul Cosenza. Cosa servirà per portare a casa l'intera posta in Pisa? Quello che abbiamo visto contro il Pisa, stesso atteggiamento, stessa mentalità. Benevento, Frosinone, Monza. Prima della sosta queste tre gare potranno dire molto sul proseguo della stagione? Io la penso in maniera diversa. Io penso adesso al Benevento, poi le prossime ci penseremo dopo. Adesso dobbiamo pensare soltanto e esclusivamente al Benevento. Grazie. 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 Grazie.